Una giornata di festa, questa sarà domani la quarantesima edizione della Su e Giù. La macchina organizzativa del gruppo sportivo Virtus sta rifinendo gli ultimi dettagli. Il percorso è tracciato, quasi 8 chilometri per toccare i punti importanti della città. Il ritrovo è previsto come sempre alle 9.30. Il primo cittadino di Campobasso darà lo start alle 10, sotto il monumento ai caduti. Il torpedone attraverserà Corso Vittorio Emanuele. Tappa fissa da qualche anno al campo di atletica Nicola Palladino. E poi il suggestivo e più atteso tragitto nel centro storico, il cuore della Su e Giù. L'arrivo in piazza Vittorio Emanuele per sfiorare la statua di San Giorgio, patrono di Campobasso. Tutti possono partecipare alla Su e Giù. Per questo motivo Carmine Dato e il suo staff hanno pensato ad un percorso alternativo per i diversamente abili e per le famiglie con i passeggini. Inevitabile il tratto in salita di via Sant'Antonio Abate con lo staff del gruppo sportivo Virtus pronto ad aiutare i partecipanti. La Su e Giù è la corsa di tutti. Non ci saranno né vincitori né vinti. C'è chi aspetta questo giorno? Chi si allena per questa gara solo per essere protagonista di una tradizione tramandata da padre in figlio? Le prime corse con i genitori. Oggi e domani da soli per il tragetto, per una sfida con se stessi o in goliardia con gli amici. Il meteo sarà clemente, mattinata soleggiata, solo nel pomeriggio qualche goccia di pioggia. Forse lì su c'è qualcuno che tiene a bada le nubi.